Dieci anni fa l'allora console Mario Vattani si esibiva con il nome di Katanga con il suo gruppo sotto fascia semplice a una festa di Casa Pound cantando Bandiera Nera e facendo vistosamente dal palco il saluto romano. Parliamo di un componente del nostro corpo diplomatico. Promosso ambasciatore a vita dal governo Meloni. Nel settembre scorso a Monaco di Baviera durante l'Octoberfest due ragazzi italiani sono stati arrestati per aver fatto il saluto romano. In Germania chi fa il saluto romano lo arrestano. Qui da noi in Italia diventa ambasciatore. Se qualcuno da noi osa gridare viva l'Italia antifascista viene prontamente identificato dalle forze dell'ordine. Se invece canta Bandiera Nera accompagna la Presidente del Consiglio nei suoi viaggi ufficiali. Questa è la differenza.